Il pallone è più leggero, oggi c'erano molti meno portieri che riescono a prendere in presa il pallone, tutti lo respingono con le mani, non c'è più una volta che il portiere prendeva con i guantoni in presa perché il pallone naturalmente era più pesante, adesso il pallone è più leggero, vi mette in difficoltà questo tipo di pallone anche quando calciano molti gol li vediamo da fuori aria, il pallone che si alza, ha cambiato un po' anche la tecnologia di calciarlo o di prenderlo? Ha cambiato qualcosa? No, no, sì, pallone ormai ma un po' tutto, anche regolamenti cambiano in base al fatto che la gente guarda la televisione e ci devono essere più gol possibili, questa è la verità perché ce lo dicevano io, un attore che avevamo l'anno scorso che era stata anche a Coverciano, gli avevamo detto chiaramente, le regole che cambiano cambiano in base perché la gente di 0-0 non le vuole più vedere e il pallone di ora ti dico che non è una cosa semplicissima da tenere La spiegazione l'hai data dunque? Sì, sì, tant'è che ora anche il ruolo del preparatore del portiere è cambiato, prima si allenava molto di più la presa, ora si allenava molto di più la deviazione Questo l'hai detto perché noi ne parliamo sempre da ogni giorno quindi è cambiato insomma anche questo La spiegazione è molto meno Sì, però voglio dire, io non vedo più i portieri che prendono in presa Cambia sempre il traiettore Ma tu da quant'anni fai il portiere? È cambiato da quanto? O cambia ogni anno progressivamente? Il pallone? Sì Il pallone ogni anno è leggermente diverso Dipende dalle case che lo fanno Adidas è diversa dalla Nike Ti faccio un esempio Il peso adesso per quello è il peso No, ma aspetta, ti faccio un esempio Io all'inizio a Collivorio ci allenavamo con il pallone della Serie A, il Nike Che poi è completamente diverso da quello della Serie B Il nostro è forse leggermente più pesante però non riesce mai a tenere la traiettoria L'altro è più leggero quindi il pallone arriva più forte però tiene la traiettoria Però insomma siamo proprio lontani anni luce l'uno dall'altro Cioè uno in Serie A è un tipo Lontani anni luce potete da un pallone Allora, dipende come lo colpisce Molto interessante Sì questo non lo sapevo mica Molto interessante Dieci anni fa a lunedì in Serie A ti mandavano la squadra ospite che ospitare ti mandava 5-6 palloni per l'allenamento Ogni società si faceva così Noi mandavamo dei palloni, giochiamo col Bari, mandavamo dei palloni al Bari il lunedì Anche te Alberto quando allenavi succedeva questa roba? Sì ma io È successo così Sì no, ti arrivava il pallone Voglio dire Ti accorgevi di Dieci palloni arrivavano Arrivavano i dieci palloni Perché ogni società, ogni squadra aveva un suo pallone Adesso c'è il pallone unificato Uno aveva il pallone Tutti i palloni No ma il fatto che dica Luca che già due mesi fa giocava a Livorno In Serie A i palloni sono diversi da Serie B Mi trova spesato Uno è un Nike, uno è un Puma, sono proprio completamente diversi E' già un passo avanti che la Lega abbia fatto comunque uno stesso pallone per tutte le squadre E' già un punto che è quello che funziona 排atico di 추